Conf Commercio Sezionale Raguse e Federalberghi chiedono all'amministrazione comunale di posticipare ulteriormente l'entrata in vigore dell'aumento della tassa di soggiorno che dovrebbe scattare secondo i piani della giunta municipale a partire dal 1 gennaio 2025. Già lo scorso anno, più o meno in questo periodo, sottolineano delle associazioni adatoriali di categoria, eravamo intervenuti sullo stesso argomento chiedendo di posticipare l'entrata in vigore degli aumenti poiché è troppo a ridosso della fine dell'anno e con contratti già chiusi con i tour operator. Tuttavia il 2024 non è stato come ci si attendeva, infatti il comparto turistico della città di Ragusa, così come quello di altre zone siciliane, sta scontando problematiche importanti che impediscono agli operatori di riallinearsi con le condizioni economiche pre-Covid. Non vogliamo piangerci addosso, non siamo abituati, ma dobbiamo prendere atto della dura realtà. Un ulteriore incremento delle tariffe riguardanti la tassa di soggiorno potrebbe creare compensi ulteriori che metterebbero a rischio l'attività futura delle nostre strutture ricettive. Conf Commercio Sezionale Raguse e Federalberghi non hanno dubbio, un incremento delle tariffe previsto già per i primi giorni del 2025 potrebbe causare, lo ribadiamo, di equilibri economici che renderebbero dura l'attività futura di ogni realtà ricettiva. Inoltre l'aumento della tassa potrebbe scoraggiare i turisti a scegliere una struttura ricettiva di Raguse e invogliarli piuttosto verso altri comuni della zona. Siamo certi che ancora una volta l'amministrazione comunale valuterà con attenzione le nostre richieste per cercare di venirci incontro. A quanto pare però il sindaco non sarebbe disposto ad alcun rinvio, ribadendo i motivi per cui l'aumento, come peraltro già detto in diverse occasioni, sia un semplice allineamento alle altre realtà del sud-est siciliano. Grazie.